lo hanno lo hanno le grotte continuiamo, saluti da aspetta, aspetta, con un po', con un po', ecco così Belgrado saluti da io prendo la bionda io prendo la rossa ah, ah, ah trattami ehi amico, come deve essere il tuo uomo ideale? il mio uomo ideale deve essere maiale, ma non bianco borgo manero invece? invece? il mio uomo ideale deve essere maiale ma deve essere un uomo di chiesa borgo san dalmas eh, bello? depi cosa? tizio è proprio bello madonna c'hai due labbra che mi viene voglia di baciarle ciuluma dai ciuliamo eh sì limone piemonte saluti da bellissima ma benissimo, sono stato a Genova ma mi prende molto una cazzata ve lo sento va bene, va bene benissimo, sono stato a Genova e ho micca sei proprio uguale a un genoveco c'è grillo mulch benissimo, sono stato a Genova ho comprato questo giocolato mi sembra un sardo vabbè, è un genoveno è un genoveno Belin, sono stato a Genova e ho popolato questo cioccolato l'ho preso proprio lì vicino al porto dove c'è l'acquario, sai già un po'? mmm, svizzero nobiligur tutto stavigliato per nobiligur ah, le ultime due, poi ce ne andiamo ah, hai visto che bel bicipiti che c'ho? ma nono che roba e guarda che pezzorani granitici che c'ho ma nono che pezzorani e guarda che quadricipite rigoriosa e dietro quadricipite e guarda che tartaruga scolpita ma nono che roba maccio piccio e per finire ce l'abbiamo nooo aiuto aiuto i chiattivi i chiattivi ci insieguono schiappiamo ci vogliono piccili armi ci prendono ci si spiacciata la schiappa mi sento che io ne chiuso nooo dobbiamo andare via presto dobbiamo schiappare più di grazie buon proseguimento grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti